In Toscana vi sono tre ato, tutte quante puntano all'autosufficienza, è stata fatta anche un'osservazione al piano del lato centro, ora prima dell'approvazione vediamo se potrà essere presa in considerazione questa opportunità che ovviamente sarebbe un'opportunità ben gradita che come appunto è stato detto, cioè dobbiamo puntare ad avere il completamento e la dotazione impiantistica ma anche tenendo conto di chi negli anni si è fatto carico fino ad oggi di questa funzione. Grazie.